Signore e signori, l'olandesina! Eh sì, Miralanza ti è sempre vicina, per esempio per il bucato ti porta nuovo Ava, la gente si fida di Ava e ci credo, guarda che bucato bianco, ma che dico bianco, oh questo abbaglia e che magnifici regali con le figurine della grande raccolta. Grazie a tutti!